E' iniziato ufficialmente a Pollica il Network Internazionale dei Biodistretti. Ce ne parla Michela Maffongelli nel prossimo servizio. Presso Palazzo Capano a Pollica si è aperto il confronto tra gli amministratori del Cilento e del BioVallee in Francia per la costituzione del Network Internazionale dei Biodistretti, una delle più importanti realtà europee che ha fatto del modello biodistretto un'occasione di coesione sociale e cooperazione internazionale. Il Cilento e il suo biodistretto, che ha sede nel comune di Ceraso, sono stati scelti per la fase costituente Network Internazionale dei Biodistretti, che vedrà la prossima primavera nel Cilento oltre 135 nazioni riunite per lo studio e la diffusione di questo modello di sviluppo sostenibile.